Danze, musiche e sapori hanno animato il centro di Aquilonia, in provincia di Avellino, la Notte del Grano, che si è svolta sabato 31 agosto 2013. Un evento ritmato da spettacoli per bambini, concerti, danze popolari e momenti di animazione dalle magiche atmosfere. La serata è stata anticipata dal convegno Il Grano, tra tradizione e sviluppo, in cui si è discusso di come un patrimonio naturale possa diventare volano di sviluppo per il territorio. La manifestazione nasce perché è nostra intenzione quella di rilanciare tutto il territorio, per cui parte da un protocollo di indese con Monteverde sul grande spettacolo dell'acqua e adesso stiamo proseguendo su questo itinerario per fare in modo che i riflettori non si spengono alla fine di agosto ma continuino per tutto l'anno. Si svolgerà sostanzialmente con questo convegno che il direttore del museo ha organizzato, poi intorno alle 20 appena comincerà a fare buio, partiranno 200 lanterne magiche che daranno il via all'evento e poi c'è tutta una serie di spettacoli, sono 8 artisti che si alterneranno su due palchi in contemporanea, un teatro dei burattini per i bambini, una mongolfiera che salirà a 60 metri per portare i bambini e farli vedere la scenografia dall'alto. Abbiamo organizzato tutto anche con il supporto di un direttore artistico, di uno scenografo, di un grafico, quindi ce l'abbiamo messa tutta perché questo evento, che è la prima edizione, possa essere il propulsore per eventi successivi nei prossimi anni. Lo spirito è quello di rilanciare questa iniziativa, rilanciare il territorio tutto insieme. In quest'ottica abbiamo elaborato un progetto delle città itineranti che vedono coinvolte Aquilonia, Bisaccia, Monteverde e Lacedonia, tutti insieme faremo sinergie per portare avanti questo progetto delle città itineranti in modo che il territorio si valorizzi. Noi siamo partiti dal grano perché il grano è l'elemento povero che caratterizza il territorio, però il grano è il nostro simbolo, è quello che ha potuto soddisfare le esigenze delle famiglie, anche se in condizioni abbastanza disorganizzate. Adesso cerchiamo attraverso l'elemento grano di rilanciare anche attraverso un'organizzazione più ambia e più organizzata tutto quello che è la filiera del grano, a cominciare dalla cultura fino a quando poi arriva la filiera finale che è la pasta. È apprezzabile questa iniziativa in un territorio che ha dei prodotti di qualità che finora non sono stati valorizzati nella loro pienezza. Oggi si incomincia a discutere dei progetti integrati di filiera, noi già ne abbiamo avuto uno in zona che vede i coltivatori cerealicoli accoppiati con i produttori di pasta e la pasta Armando oggi è diventata un marchio di interesse nazionale e internazionale, come garantiscono la qualità del prodotto e un accorciamento della filiera che consente agli agricoltori di ricevere il giusto guadagno. Quanto è importante il grano per questi territori, il passaggio da un'economia silvopastorale alla granicoltura che cosa ha significato? Sicuramente è stato un processo di lunga durata che è durato perlomeno 400-500 anni, iniziato nel 500 e ha cambiato profondamente non solo il paesaggio della storia ma anche l'economia e anche i rapporti sociali. Il tentativo di dare una facies moderna all'economia dell'appennino interno, dell'orsale appennino, senza tuttavia riuscirci. Oggi ci resta in qualche modo il vuoto, di cui parla il giudice Dante Troisi quando negli anni 50 l'ha visto, senza avere però quella economia dinamica che magari nelle altre regioni europee si è riuscita a realizzare. La mia esperienza trae origine da un'evoluzione che la famiglia che mi onoro di rappresentare ha avuto nel corso del suo percorso imprenditoriale, quando ceduta la Monticchio Gaudianello S.P.A. ha investito in cerealicoltura e quindi di lì la semplice equazione grano uguale pasta. È cominciato un progetto importante che sta crescendo negli anni, fino ad oggi che ha creato una realtà di 40 dipendenti articolata su tre turni di produzione, grazie all'idea di produrre pasta fresca in atmosfera protettiva, ripercorrendo un po' quelle che sono le tradizioni della cucina e gastronomica lucana. Dalle dimostrazioni di volo in Mongolfiera al Teatro Ragazzi, dalle musiche popolari ai concerti che hanno animato tutta la notte, senza dimenticare i sapori della tradizione che è stato possibile degustare durante la serata. Abbiamo voluto accontentare tutte le fasce di età, soprattutto i bambini, perché è una serata magnifica, finalmente una coda d'estate particolarmente bella come serata, quindi abbiamo una bella mongolfiera ancorata che accompagnerà per questa esperienza, anche per cambiare un punto di vista, andare un pochettino più su. E poi ci sono gruppi fantastici che si avvicenderanno, come i Brigandi Bottari, come i fantastici musica manovella, i Tamamburiati, poi arrivano i ragazzi della Città dell'Utopia che reverranno nella Sultardi, Gerardo Balestrieri, si avvicenderanno tutti i gruppi più significativi di una certa pulsione musicale che mi piace così accompagnare, anche con l'esposizione dei rapaci di Beat Movie, il Fuoco di Lucifero, come anche One Man Band con Michele Cacaba che in questo momento sta facendo i burattini. Recuperare queste tradizioni diventa anche un appuntamento importante che secondo me dopo questa prima edizione si potrà ripetere tranquillamente.